Ciao, bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto È un brutto momento per la televisione italiana, a malincuore il pubblico deve dire addio a lei, la grande Orietta Berti Diffusa la notizia, si è scatenato il panico. Gli italiani non potevano credere ai propri occhi, mai avrebbero pensato di dover salutare così precocemente la mitica cantante Orietta Berti Eppure, bisogna fare conti con la realtà. Purtroppo, la fuoriclasse ha perso il suo ruolo e non la vedremo più in televisione. Il pubblico italiano è davvero arrabbiato e sfoga la frustrazione su social Per capire cosa sta succedendo nelle ultime ore bisogna fare un passo indietro e entrare dietro le quinti della grande media set, ecco che fino ha fatto Orietta Berti Orietta Berti, l'addio del pubblico.Oltre ad essere una bravissima cantante, la Berti è stata un ottimo opinionista, che il pubblico ha apprezzato infinitamente Ecco perché dirle addio non è per niente facile per gli italiani Non sarà più un opinionista del Grande Fratello Vip, perché nella nuova edizione condotta da Alfonso Signorini saranno apportate molte modifiche Prima di tutto cambierà il logo e il nome del programma, non sarò più il GF Vip, ma solo il Grande Fratello Questo vuol dire che anche in Vip, le persone non famose, potranno partecipare al programma L'assenza di Orietta Berti si farà sentire, la cantante ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo, anche grazie alla compagnia di Sonia Bruganelli, che ha lasciato il ruolo Sempre puntuale e gentile, Orietta Berti non si è mai risparmiata nel dare giudizi e consigli Grazie alla sua esperienza, infatti, la cantante ha molto da raccontare e consigliare, ecco perché è stata un'opinionista perfetta Promossa a pieni voti, il pubblico chiede già il suo ritorno, ma a prendere il posto delle due opinioniste ci sarà Cesara Buonamici, la nota conduttrice del TG5 Nonostante la brutta notizia, è probabile che continueremo a vedere Orietta Berti su Mediaset Sembra, infatti, che sia stata scelta per partecipare in un altro famoso programma, al fianco dell'amico Gerry Scotti Secondo le indiscrezioni, dovrebbe ricoprire il ruolo di coach per il programma Io Canto, che vede i più piccoli cimentarsi nel canto Si tratta di un vestito perfetto per lei, che è una grandissima esperta di musica e dall'alto della sua esperienza può aiutare enormemente gli aspiranti cantanti Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire dove continueremo a vedere Orietta Berti Una cosa è certa, il pubblico italiano non è disposto a dirle addio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video